Lei è Chiara, l'ultima arrivata nel nostro Centro Recupero Tartarughe Marine. È arrivata qui poiché aveva ingerito un corpo estraneo, nello specifico un filo di nylon che le usciva dalla ranfoteca e dalla cloaca. Per questo ci siamo repentinamente recati all'Università degli Studi di Bari nella Facoltà di Veterinaria, dove, grazie all'aiuto del professor Di Bello, abbiamo effettuato la rimozione di questo corpo estraneo attraverso un'operazione chirurgica.